quali sono i tre messaggi territoriali emessi da ogni gatto esistono dei segnali molto evidenti simili ai nostri cartelli autostradali che sono rappresentati dalle graffiature e dalle marcature con urina possono essere visti da lontano e indicano che il territorio è occupato un altro segnale simile alle nostre sirene della polizia è rappresentato dai mia quando un gatto estraneo entra in territorio occupato il proprietario di casa lo avvisa della sua presenza ci sono poi segnali meno evidenti simili ai nostri numeri civici rappresentati dalle marcature con feromoni i gatti si strofinano con il muso e con il corpo ad oggetti persone e altri animali in questo caso il segnale ha anche un effetto rassicurante passandoci vicino capirà di essere a se questi segnali venissero a mancare il gatto si troverebbe in un territorio sconosciuto un po' come se noi cambiassero i sensi di marcia nel quartiere in quel caso ci sarà sicuramente un periodo di stress per l'animale dovrà ritrovare la propria mappa